lui ma sono bellissimi quanto avranno tre mesi e si ormai lei pure bisogna mettere qualcosa per i parassiti piccoli comunque si li vedo male beh ma forse una puntina di di farmaco iniettabile sono bellissimi questi cuccioli anche perché credo che lei veramente si sia accoppiata solo con un cane con un mare in mano beh qualcuno sarà di media taglia come lei alcun altro certo questo no vediamo vediamo i dentini piccolini che c'è sono timidi e mami vieni bella vieni dai mamma tieni facciamo mangiare un pochetto se non mora preparo la e lo stronghold nella siringa e mentre mangiano glielo metto poveri piccolini sotto la pioggia basta che non fa del male cani pallozine pallozine vieni tu pallozine prendi lui sempre quello che non sta bene vieni piccolino perché lui c'è un problema alla zampetta non riesco a capire quale anteriore quella di dietro mi sembra si è preso un quarto si anche meno anche meno perché se una è per quanto 80 kg metanzi un ottavo togliamo un pezzo perché questo peserà 4 kg e pure di più che amaro e beh scusa poi questi pezzettini come si fa a farli vieni amore vieni 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 eccolo pulisiti gli occhietti o lei è bravissima questa mamma allora senti mettiamovi il mercantino qua vicino la cuccia ma c'è la cuccia ah è vero c'è bella nascosta piccolini piccolini ciao non abbiamo mai voi avete visto se sono maschiette o femminucce no giusto mo che gli abbiamo preso in una di quelle pelose cicciona e femmina questo è maschio esempio qui è maschio il quello malatino lì non lo so vedi quella zampa di dietro vedi la destra si vede proprio che un po non so che trema bisognerebbe portarlo dalla dottoressa comunque però sai no non so se lo vogliamo portare e poi secondo ciò che dice ovviamente lo riportiamo lo possiamo riportare a fine giornata non lo so giusto se lo vogliamo prendere ma per me giusto per capire è fratturata o perché sembra tremolante non è molto stabile eppure qui voglio dire il motivo pericolo di essere investite non ce ne sta piccolino la zampina mini dalla dottoressa i vieni cerchiamo di sterilizzare la prima possibile lei